Il Paradiso delle Signore, giovedì 9 maggio 2019 Quando Marta e Vittorio finalmente si rivedono, riescono a trovare un po' di serenità tra loro e a riflettere sul comportamento di Tina. Iniziano a sospettare che dietro ci possa essere Andreina e così decidono che l'unico modo per scoprirlo è seguirla. Una brutta tegola si sta battendo sulla famiglia Cattaneo. Luciano infatti decide di utilizzare una sua ingente somma di denaro personale per contrastare i piani di Oscar contro Clelia. Ma i soldi mancheranno a Sibia per utilizzarli per il matrimonio di Nicoletta con Cesare. Federico deve stare vicino al suo amico Salvatore, poiché la sua storia con Gabriella non procede bene. La Venere infatti sembra poco interessata all'uomo, al contrario di lui che invece è molto preso. Marta fa una telefonata a Vittorio, facendogli intendere di trovarsi in pericolo. Conti deve immediatamente correre a Villa Guarnieri per parlare con Andreina, ma la donna è partita con Ludovica. Grazie a tutti.